Noi come Camera di Commercio di Torino siamo qui a SMAU per accompagnare le nostre aziende, soprattutto le più innovative, farle partecipare alle competizioni, ma soprattutto farle partecipare a questo clima di scambi di tecnologie, di scambi di esperienza, proprio perché crediamo molto in formule come queste che consentono alle aziende di conoscersi e di farsi conoscere anche all'esterno. In particolare domani presenteremo il cluster dell'ICT italiano, di cui Torino World è leader e che noi come Camera di Commercio sosteniamo da tempo. Non solo, ma poi facciamo anche molte attività per internazionalizzare le aziende e quindi per accompagnarle all'estero con un nostro progetto specifico che si chiama FinCup, che aiuta proprio le nostre aziende ad andare all'estero. Tutto questo per offrire sempre nuove opportunità alle aziende del territorio, non soltanto quelle dell'ICT, ma qui parliamo di quelle dell'ICT, appunto per offrire alle aziende del territorio nuove opportunità e nuove occasioni di business.